Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 9 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, ci sarà parecchio nervosismo e basterà molto poco per farvi perdere le staffe. Cercate di contenerve almeno sul lavoro. Per quanto riguarda l'amore, sentite che qualcosa non va. Usate la testa. Non esagerate e agite con calma e moderazione, tutto andrà per il verso giusto. La Luna, Venere, il Sole e Mercurio congiunti nel vostro segno vi preparano il terreno giusto su come muovervi e per agire. I vostri conviventi sono sorpresi dalle capacità di organizzazione e di coordinamento che sapete dimostrare in casa. Dov'è finita la vostra tipica tendenza ad essere caotici, a voler fare tanto e tutto insieme, spesso tralasciando di fare, all'ultimo, la cosa più essenziale. Accompagnati dalla vostra tipica solarità espansiva, vi preparate a una giornata in cui riuscite a portare a termine molte vostre iniziative, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade del vostro segno. Settimana delle novità. Ecco cosa fa pensare il Novilunio nel vostro segno, con il Sole e la Luna che si abbracciano affettuosamente, promettendovi qualche buona notizia, opportunità inattese, insomma la sorpresa nell'uovo con otto giorni buoni di ritardo, ma come recito il proverbio meglio tardi che mai. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Toro. Cari Toro, avrete Urano contrastato da Marte e Saturno. Questo vi porterà notizie negative sul fronte lavorativo. Tutto tranquillo invece in amore. Potete iniziare a progettare qualcosa di speciale con il partner in vista del futuro. Un bel Saturno combinato a Nettuno nel segno profondo dei pesci rafforza la sensibilità, l'empatia, l'intuito specie se siete nati in maggio. Il team planetario migliora i rapporti in famiglia e innalza il livello della capacità di essere percettivi con l'ambiente circostante. Imbrunciati con ragione, col novilunio in ariete nella vostra dodicesima casa, tante cose da dire e da fare che si agitano nella mente e nel cuore, ma di fatto. Non succede nulla. Risultato, vi sentite pronti a scoppiare, con un'agenda da urlo e un grande tumulto interiore. Ciò che vi manca è di dare la stura alla bottiglia e bisognerà farlo prima che esploda. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Gemelli. Cari gemelli, avrete voglia di dedicarvi di più agli affetti rispetto al lavoro. Qualche grana lavorativa ci sarà, ma sarete in grado di superarla senza fatica. Roba di poco conto. Insomma, andate dritti per la vostra strada. I successi e i traguardi sono a portata di mano, saprete coglierli con entusiasmo. Iniziate la giornata nel pieno del vostro vigore accompagnati dalla Luna, dal Sole, da Mercurio e da Venere, tutti che vi favoriscono dal segno della riete. Qualche nuvola si addenserà solo subito dopo pranzo. È possibile che qualcosa vi sfogga o non possiate valutare il presente con la consueta visione intelligente della realtà. In famiglia vi toccherà impegnarvi a risolvere un problema di carattere pratico sopraggiunto proprio oggi, con il vostro piglio risolutivo riuscite a trovare in poco tempo le dritte giuste. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 9. Cancro. Cari cancro, vi attendono giornate molto particolari in cui sarete chiamati a riflettere. Non vi sentite soddisfatti appieno della vostra vita, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo sia quello amoroso. Stringete i denti. Passerà, ma dovete volerlo. La buona volontà è la prima arma. La fortunata sosta di Marte, Saturno e Nettuno nel segno amico dei pesci vi rende dolce l'atmosfera. Il team planetario, inoltre illumina il mondo interiore aiutandovi a regolare sensibilità, intuito, capacità di guardare in una prospettiva più ampia e sfaccettata ogni situazione vi capiti a tiro. La sfera familiare è favorita, armonizzate i contrasti, minimizzando alcune controverse e verificatesi di recente tra i conviventi. Non vi attaccate a questioni di principio, specie se siete nati tra il 4 e il giorno 11 di luglio, con il sole contrario potreste non avere sempre le idee chiare sui rapporti e le persone coinvolte. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7. Finanze, 7, benessere, 6. Leone Cari leone, avrete finalmente l'occasione di raccogliere i frutti di quanto avete seminato di recente. Il discorso vale sia a livello economico sia morale. L'amore, per ora, passa in secondo piano. Attenti però perché il partner potrebbe innervosirsi. Scenario dei transiti abbastanza positivo, fermo restando alcune negatività che durano da un po'. È possibile avvertiate un inspiegabile cambiamento nel tono e nell'umore, ma presto riuscite a gestirlo e a trascorrere una serata serena. Il sole in splendida posizione, specie se siete nati tra il 7 e il 13 di agosto, vi fornisce le distrazioni giuste per sollevarvi da tutti i pensieri quotidiani. La forma fisica si rivela discreta, ma, forse la posizione di Urano, oggi dissonante in toro, potrebbe non farvi riposare come il vostro fisico richiederebbe. Novilugno in Ariete, segno di fuoco grande amico del vostro e amanti di tutto ciò che scatena adrenalina, lotte, sfide e lunghi viaggi, quell'angolino di spirito nomade che alberga in molti insospettabili professionisti di alto livello socio-culturale, tuttavia. Alzi la mano chi non ha mai sognato di viaggiare libero su un carrozzone come i pionieri del Nord d'America o i gitani. A indurvi questi pensieri la giornata mondiale del popolo Rom, i fuori casta che attorno al 1200 attraversarono l'Asia approdando in Europa e portando, si racconta, anche l'arte di divinare coi tarocchi. In fondo tutta l'umanità è un popolo di migratori che per fame, guerra o spirito d'avventura si sposta qua e là nel globo, cercando una vita migliore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 6. Beneessere, 10. Vergine. Cari Vergine, Marte e Saturno potrebbero far emergere alcune verità scomode. Dovrete cercare di pensare anche sui vostri errori e sperare di restare in buoni rapporti con le persone coinvolte. Fatelo per voi e per loro. Insomma, un po' di autostima e ottimismo saranno la base per ottenere qualcosa di speciale. Urano occupa un segno per voi molto congeniale per quanto concerne l'attivismo sensibile, la volontà di cura, la capacità di guardare all'aspetto affettivo dell'esistenza, il segno del toro. E in questa giornata di piena primavera riuscite ad andare spediti, dritti come un treno in corsa, per conquistare posizioni che vi riempiono di contentezza. La vostra solidità di carattere appare un faro su cui anche altri possono fare conto e lasciarsi guidare quando il mare è in tempesta. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 10. Beneessere, 6. Bilancia. Cari bilancia, a partire da questa giornata sarete molto energici per merito di Marte che è in vostro favore. Potreste solo avere qualche malumore a metà settimana per quanto riguarda la sfera amorosa. Ma non pensateci ora. E soprattutto mantenete la calma e usate tutta la vostra diplomazia. Un'arma che non vi ha mai tradito. Malgrado quattro pianeti in ariete vi tengano il broncio comincia una giornata tranquilla e che si dimostrerà tale anche nella serata, gratificata da soddisfazioni non di poco conto. A riceverne buoni effetti sarà, prima di ogni altro settore, l'ambito amicale, dove ritrovate un clima di armonia e di stretta condivisione con i componenti della comitiva, o meglio del clan di sempre. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 9, benessere, 9. Scorpione. Cari scorpione, avrete alcuni dubbi per quanto riguarda le relazioni. Chi non si sente più dentro una storia riuscirà a troncarla facilmente. Ma prima usate la testa, pensateci bene. Vedrete che le cose miglioreranno. Giornata sì e no, con corpi celestiche variano la loro posizione stabilendo un alternarsi di momenti complicati a momenti più sereni. Plutone in acquario forma un aspetto contrastante specie se siete nati dal 23 al 26 di ottobre. È possibile si crei qualche piccola divergenza nell'ambito della famiglia, i rapporti tra genitori e figli incontri o difficoltà di comunicazione. Per altri versi può anche emergere una questione di carattere patrimoniale da sciogliere e la necessità di mediare con i parenti. La forma fisica si presenta buona con pianeti del calibro di Marte, Nettuno e Saturno, in ottimo aspetto col vostro segno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, Attività, 8, Finanze, 6, Beneessere, 7. Sagittario. Cari Sagittario, sarete invasi da una grande voglia di fare. Fate attenzione soltanto alla giornata di mercoledì dove potrebbero emergere delle incomprensioni in amore da evitare accuratamente. Fatevi furbi. Occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. La giornata parte sotto i migliori auspici astrologici, malgrado Saturno e Marte continuino a fare i birichini e a mettervi qualche bastone fra le ruote. Fate solo attenzione a non esagerare nel chiedere troppo alla sorte o a chi vi sta oggi attorno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, Attività, 10, Finanze, Anze, 6, Beneessere, 10. Capricorno. Cari Capricorno, preparatevi, vi attendono giorni delicati dal momento che dovrete decidere la vostre nuove priorità. Cercate di raccogliere tutte le vostre forze per affrontare le prossime giornate al meglio. Questo vale sia in amore sia nel lavoro. Riuscirete a superare problemi di lungo corso. Ci sono molte cose che vi tolgono il sonno, ma vedrete che piano piano tutto sia giusta. Dovete avere un po' di pazienza e tanta fede. Siete stimolati oggi dal luminare maschile, il sole, che si trova in angolatura dinamica dal segno dell'ariete, specie se siete nati nella terza decade, a ricercare la concordia nell'ambiente circostante. I rapporti con i vostri simili sono gratificati da una straordinaria forza espansiva e da comportamenti che vi sorprendono. In famiglia potrete oggi godere di una fase di particolare armonia, se avete figlioletti o nipotini, preparatevi a ricevere, da loro, intense soddisfazioni. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 4. Acquario. Cari Acquario, vi aspettano giornate fantastiche in amore. Venere vi renderà irresistibili agli occhi di tanti. Perché non fare un passo in avanti con il partner? Qualcosa di solido? Può essere arrivato il momento di fare un figlio o di sposarsi. Profilo dei transiti di questo nuovo giorno giorno di inizio primavera che presenta buoni auspici. Il pianeta della gioia di vivere, venere transita nel segno buon amico dell'ariete, garantendovi un ottimo riposo notturno, base del benessere individuale complessivo. La vita familiare potrà richiedere una vostra presenza più assidua e possibile che negli ultimi tempi siate stati piuttosto latitanti. Rimedierete con il vostro slancio, le capacità di farvi perdonare che derivano dal carattere amabile e simpatico. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Pesci. Cari pesci, i prossimi giorni li dedicherete principalmente al lavoro e alla diplomazia con i vostri colleghi di lavoro. In amore tutto filerà liscio. Finalmente. Costruite qualcosa di speciale con il partner, valutate una convivenza o il matrimonio e recuperare la passione che si è un po' affievolita. Il vostro nome tutelare, Giove, è in una posizione benefica dal segno del toro. Gli affetti assumono un ruolo centrale per voi oggi, in ogni sfera di influenza, famiglia, amicizie, rapporti di coppia. Con la vostra percettività riuscite a intendere molto bene quel che si agita nell'animo delle persone a cui volete bene e a porre così immediato riparo, con indubitabile preveggenza, all'insorgere di difficoltà, contrasti, complicazioni di ogni genere. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 10, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.